Sì, sì, va bene. Quindi facciamo... Non mi impallare i Batman, per favore, sempre un po' più, ok? Sì, sì, sì. Grazie. Quindi facciamo, io gli do qua e qua, ok? Prima qua, qua. Quindi uguali uno, uguali due. Qua ti avvicini, mi dai la ginocchiata, e io, ovviamente, mi prendi e mi fai così. Capito? Quindi, è tipo, io faccio così, tu fai. Uno, due, vieni avanti e mi dai la ginocchiata. No, qua sulla pancia, capito? Però così, cioè tipo, mi prendi e mi fai così. Mi passi, ovviamente, sul lato, mi metti questa mano dietro la schiena, mi tiri giù e mi dai la ginocchiata, ok? Quindi fai con te, c'è, tipo, appunto, io ti faccio uno e te fai sopra. Poi le do qua, due, ok? Adesso mi passi dietro, mi tiri giù la cosa, tipo, esatto. E poi, di solito, levi la cosa, le spingi per terra e le casco. Per esempio, una cosa leggera. Ok? Quindi arrivo, te la passi così, uno, due, poi le passi dietro, ok? Esatto. Perfetto. Vediamo la ginocchiata. Un'altra, un'altra e poi basta. Ok? Allora, uno, due, tre, vai. Ok. Vabbè.